Ciao a tutti! Ieri, come al solito, c'è stata la live di Davide dal titolo Buonasera, una live che è durata relativamente poco, perché di solito le live serali di Davide, insomma, durano due ore, però causa raffreddore, non si è sentito di andare avanti, insomma, lo possiamo anche comprendere, quando uno sta male, insomma, è ovvio che non si senta di andare al lavoro. Comunque, ci dice appunto che non sono stati bene, soprattutto che la moglie, cioè Chiara, ha ancora la febbre e anche il raffreddore, quindi salutiamo Chiara e le auguriamo di rimettersi al più presto, altrimenti noi canali di scolo, insomma, non sappiamo come andare avanti, e anche la Luciana, insomma, come parla, si sente che è abbastanza raffreddata. Noto subito che invece di migliorare con le nuove attrezzature che hanno, i loro video e le loro live vanno peggiorando, perché si sentono dei rumori pazzeschi ogni qualvolta Davide si avvicina alla videocamera per bannare, o basta, insomma, che la tocchi, si sente veramente un rumore pazzesco. Comunque, evidentemente ancora non hanno messo all'opera, diciamo, le nuove attrezzature, io spero che lo faranno al più presto, perché così veramente, cioè, invece di migliorare, si peggiora. Comunque, gli chiedono se casomai fosse il caso di fare un tampone per quanto riguarda il raffreddore e la febbre. Lui dice che il medico comunque non gliel'ha chiesto, che di questi periodi, insomma, non si parla molto di Covid, comunque è un raffreddore, può essere anche un raffreddore semplice, quindi il tampone, insomma, possono evitarlo. Un utente in chat chiede di poter parlare come argomento, insomma, della live di arte, perché lei sta studiando, appunto, questo argomento e soprattutto sta studiando Picasso e tutto il 1900 in generale. Davide dice, molto onestamente, devo dire, che lui non ne può parlare perché è ignaro, diciamo, di questo argomento, lo ignora perché lui non lo sta studiando. Però, quando sente poi il nome di Picasso, dice che anche un bambino dell'asilo può fare i quadri di Picasso, basta che fa quattro scarabocchi, mette una firma e praticamente lo mette lì in vendita. Evidentemente, però, devo dire che l'aveva ammesso, quindi, però evidentemente lui non conosce tutti i quadri di Picasso, insomma, perché se a lui piacciono i quadri quelli normali della serie, anche Picasso ha fatto quadri, tra virgolette, normali, quindi voglio dire, non c'entra niente con i quattro scarabocchi dei bambini. Sempre parlando di artisti, dice, sì, c'è Picasso e poi c'è quell'altro con la G. Come si chiama? Come si chiama? Che non si ricordava. È Luciana Van Gogh. Lui dice che il nome che diceva lui iniziava con la G e Luciana gli dice, sì, vabbè, Van è il nome, Gogh è il cognome. E, insomma, scopriamo a questo punto che per Davide il pittore numero uno è Van Gogh e che la signora Luciana non sapeva che Van Gogh è il cognome e Vincent è il nome. Comunque, è raffreddata la signora Luciana, quindi diciamo che è stato un momento di obnubilamento. Comunque, le fanno presente, appunto, che il pittore si chiamava Vincent Van Gogh e il cognome e lei, insomma, chiede scusa per l'errore. Davide dice che, appunto, gli piace questo pittore, cioè Vincent Van Gogh, perché lui rappresenta dei paesaggi, rappresenta qualcosa comunque di comprensibile rispetto a quella che è l'opera di Picasso, perché probabilmente lui, come anche altri, insomma, quando pensano a Picasso, pensano alla sua opera, diciamo, forse più conosciuta che Guernica, che è un'opera cubista. Lui, cioè Davide, dice che, appunto, gli piace Vincent Van Gogh perché comunque ci sono delle cose nei suoi ritratti, ci sono i colori e quant'altro, mentre Picasso ha buttato due secchi di vernice e finisce là, secondo lui. Ad un certo punto in chat si parla anche di Monet e Davide dice sì che questi tre pittori, secondo lui, sono il massimo, cioè Monet, Picasso e Van Gogh, perché lui conosce questi tre e quindi questi tre sono i grandi. Si finisce di parlare di arte, perché, insomma, Picasso l'abbiamo fatto a pezzi e quindi possiamo tranquillamente andare avanti. Quindi si parla di istruzione e lavoro e qualcuno dice, tra le altre cose, che ci sono molti laureati che purtroppo devono fare i corrieri per Amazon perché non trovano un lavoro. Lui dice che nessuno li costringe a questi laureati a fare questi mestieri, nessuno gli punta la pistola addosso, che magari chi sia laureato l'ha fatto per far contenti i genitori e che magari gli piace di più fare il corriere. Quindi, praticamente, secondo Davide, una persona, dopo aver fatto cinque anni di superiori, se ne fa altri quattro per prendere la laurea, magari si fa anche due anni, tre anni, quello che è, per prendersi una specializzazione, e dopo che fa? Va a fare il corriere Amazon perché gli piace di più. Benissimo. Perché magari, lui dice, perché magari socializza facendo il corriere Amazon, socializza con la gente, sono sempre in giro, insomma, per questi motivi, anche perché, insomma, la paga è quella che è, vogliamo mettere. E quindi, ragazzi laureati, andate tutti a fare domanda ad Amazon. Lui ci dice che se dovesse scegliere fra il lavoro, fare la guardia museale o fare il manovale, diciamo, sceglierebbe il secondo perché non gli piace stare in piedi dritto lì tutto il giorno. Io lo capisco, insomma, è meglio stare seduti lì tutto il giorno, però, insomma, almeno c'è qualche cosa sotto che ti trattiene. Voglio dire, non devi stare proprio impalato come un pinguino, come dice lui. Qualcuno gli scrivono che i giovani, pur di lavorare, accettano qualsiasi cosa, perché, sinceramente, questa è la realtà dei nostri giorni. E lui ci racconta che lavorava per 25 euro al giorno, lavorando con i furgoni, con la vela, quelli per le pubblicità, praticamente. Dice che il brutto è che ti danno quello che vogliono, cioè come retribuzione, che ti devi alzare presto la mattina, che questa retribuzione te la danno in nero. E il suo lavoro cosa consisteva? Consisteva nell'andare con questo furgone, evidentemente, dove ti dicevano, diciamo, quelli, i tuoi datori di lavoro, ti dicevano di andare in un certo posto, tu arrivavi lì, dovevi fare delle foto per far vedere che tu effettivamente eri lì, dopodiché ti cercavi un posto all'ombra e dormivi, e il lavoro era tutto lì. Quindi voglio di 25 euro per andare in un posto e poi dormire, ecco, diciamo, avete capito. Si parla anche di supermercati, qual è il più conveniente, qual è il meno conveniente, insomma, questo potrebbe anche tornarvi utile. Sappiate che Luciana dice che la Copp ha prezzi molto alti e che lei preferisce l'S lunga, che a quanto pare ha prezzi molto più convenienti. E ad un certo punto si parla di un argomento che per me è molto interessante, e cioè, Luciana dice che l'hanno identificata come Paolino. Allora, questo Paolino è un nick che a quanto pare è molto presente sotto i canali di scuolo, fra virgolette, e che, insomma, difende a spada tratta Luciana e la famiglia. Devo dire che questo Paolino è molto, molto attivo sotto il mio canale e per come scrive, per quello che scrive, ricorda molto la signora Luciana. Lei dice però che non bisogna assolutamente associarla a lui e se si continua a farlo se ne vedranno le conseguenze. Perché lei questo Paolino l'ha già bloccato, che non è responsabile per quello che dice questo Paolino, e che comunque, se dice delle cose giuste, lei ha detto, mi farò un nick e verrà anche lei, insomma, con Paolino a lasciare dei messaggi. Cioè, vi aspettiamo, che dire, signora Luciana, vi aspettiamo, prendetevi per mano, venite, vi aspettiamo, basta che non offendete e siete benvenuti. A un certo punto, a quanto pare, iniziano ad entrare i troll, però già da allora la live si trascina, perché evidentemente sia Davide che la Luciana sono abbastanza stanchi. Quindi, infatti, a un certo punto salutano e vanno. Niente, che dire. Intanto, che io volevo fare questo piccolo inciso. Sappiamo che Davide ha studiato fino alla terza media, quindi, sinceramente, personalmente, non gliene faccio una colpa se non conosce pittori, artisti e quant'altro, insomma. Però, magari, proprio perché non li conoscio, insomma, si dovrebbe astenere dal dare giudizi negativi, ecco. Cioè, tu non conosci le opere di Picasso, io non te ne faccio assolutamente una colpa, però non mi dire che basta che Picasso, insomma, faceva quadri come un bambino che va all'asilo o che gli bastavano due secchi di vernice, insomma. Non lo sai, astieniti dal dare giudizi. Quindi, per quanto riguarda la signora Luciana, l'ho già detto, magari era un attimino non del tutto in sé, visto che comunque era raffreddata, aveva un po' di febbre e quant'altro. Quindi, questo scivolone del fatto che Vincent Van Gogh si chiamava Van di nome e Gogh di cognome, diciamo, attribuiamolo al fatto che non era proprio in sé per il fatto della febbre, del raffreddore e quant'altro. Per quanto riguarda Paolino, niente, ovviamente non sappiamo, non possiamo sapere al 100% che si tratti della signora Luciana, però possiamo dire che il modo di scrivere quello che scrive ce la ricorda, ce la ricorda molto molto da vicino. E quindi, niente, io, questo Paolino, voglio dire che se gli piace venire sotto al mio canale, lasciare messaggi, continui a farlo pure. Io gli chiedo semplicemente di non offendere i miei utenti, perché altrimenti cancellerò i messaggi, perché non mi sembra il caso, insomma. Se vuoi offendere qualcuno, carissimo Paolino, offendi me, lascia stare i miei utenti. E niente, c'è stata anche la live di Faith, io questa live però la commenterò dopo che avrò ascoltato quella che dovrà fare questo pomeriggio verso luna, se non sbaglio. E così, insomma, commenterò entrambe e vediamo cosa ha altro da dirci Faith. Quindi questo è tutto, io vi ringrazio di avermi ascoltata, vi mando un grosso abbraccio. Se volete lasciatemi un like, se volete iscrivetevi al canale, se volete lasciatemi i commenti. Ciao a tutti, un bacio grande.